Musica Torna alla nostra storia, la settimana è quella dal 22 al 27 luglio 1991, il condottore è sempre il nostro Marcello Perugini. Era viva la preoccupazione a Villa Dossola per il futuro dei lavoratori dello stabilimento Enichem destinato alla chiusura. A Verbagna intanto indirittura d'arrivo la questione del nuovo parcheggio nell'area Giuliani di Intra. Alla vigilia del mese più caldo dal punto di vista turistico era già tempo di primi bilanci sulle presenze nel nostro territorio. Nel Tg però anche la proposta di alcuni musei locali, quello dello Spazzacamino e la Casa Museo della Montagna di Viceno di Crodo. Poi i 25 anni del treno dei bimbi a Osso di Crovio e la leonessa metropolitana Savana che viveva a Villa Dossola. Tra poco VCO Notizie. I servizi sono della redazione. L'abbigliamento di Via Italia Confezioni. Bentornati alla nostra storia. Siamo a metà luglio 1991. Era ancora viva la preoccupazione a Villa Dossola per il futuro dei lavoratori dello stabilimento Enichem destinato alla chiusura. Si era tenuta l'assemblea del comitato di fabbrica, sentiremo quanto è emerso. A Vermani intanto era in direttura d'arrivo la questione del nuovo parcheggio dell'area Giuliani di Intra in Via 25 Aprile. Parcheggio del quale già si parlava all'inizio degli anni 70 e che oggi ormai da tempo è a disposizione dei cittadini. Vediamo. Si sta per mettere la parola fine all'annosa vicenda del grande parcheggio dell'area Giuliani in Via 25 Aprile a Verbagna? E quanto si augurano tutti, a cominciare dalla circoscrizione di Intra e dall'assessore ai lavori pubblici Dario Sada, che ieri sera a Palazzo Flaim ha illustrato proprio al Consiglio circoscrizionale il nuovo progetto per il parcheggio che dovrà sorgere, dove è stato effettuato da tempo un grande scavo. Di fatto del progetto si parla addirittura dagli inizi degli anni 70. Quella che sembrava la redazione definitiva risale a luglio 1989. Con un costo di circa un miliardo e mezzo era prevista la realizzazione di una costruzione con un piano interrato, uno a raso e uno sopraelevato, per una capienza complessiva di circa 250 posti auto. Di fatto si sono realizzati lo scavo e alcuni muri di contenimento, poi i lavori si sono interrotti, e lo sono ormai da parecchi mesi, per l'esaurimento dei 250 milioni a disposizione. Per la verità, dallo scorso marzo sono a disposizione del Comune altri 318 milioni, ma il loro impiego è stato congelato per le novità sopravvenute. In sostanza, avvalendosi delle possibilità offerte dalla legge Tognoli, che consente nella realizzazione di queste opere il concorso di privati, si intende valutare l'opportunità di accettare una proposta avanzata dalla stessa impresa costruttrice, la ditta Poscio. Essa prevede l'utilizzo di finanziamenti privati che si affiancherebbero a quelli pubblici e consentirebbero di realizzare l'opera sulla base di un progetto decisamente innovativo. Due piani interrati ospiterebbero 102 box, la cui gestione sarebbe affidata ai privati. Come posteggio pubblico sarebbero invece disponibili 78 posti auto al piano raso, 80 su quello sopraelevato a cielo aperto e altri 12 nell'interrato. L'ingresso e l'uscita saranno unici e ogni piano sarà raggiungibile mediante una rampa elicoidale. Il complesso sarà anche provvisto di ascensori e di cancelli di chiusura automatici. Il tutto per un costo previsto di 2 miliardi e 970 milioni. La partecipazione di capitale privato consente però di sbloccare l'attuale interruzione del lavoro e di accelerare la procedura e se il Consiglio Comunale approverà prossimamente la convenzione proposta e il piano finanziario, tutto potrebbe concludersi entro la fine del 92. Altrimenti per il parcheggio dell'area Giuliani si tornerà in alto mare. Per il momento la circoscrizione di Intra ha espresso all'unanimità parere favorevole. Vogliamo certezze e non promesse, vogliamo una politica industriale e non una politica assistenziale. E questa è la reazione dei sindacati qui all'Enichem di Villa Dossola dopo le notizie apprese circa la chiusura di questo sito industriale. Mentre mercoledì a Roma riprenderanno gli incontri per stabilire il futuro del comparto chimico nazionale, siamo venuti a Villa Dossola a sentire il polso della situazione. Luciano Pregnolato, segretario regionale dei chimici CGL, allora è ancora possibile mantenere il sito industriale di Villa Dossola spostando le produzioni da Ravenna come sostenete voi oppure non c'è niente da fare? Sì, la difesa principale è mantenere qui le produzioni dell'Eva, che sono una produzione ad alto valore aggiunto unica in Italia. Si può completare qui il ciclo produttivo spostando le 20.000 tonnellate di produzioni di aceto vinili che da Ravenna qui, non creando problemi occupazionali a Ravenna. Questo richiede una necessaria modifica dell'accordo tra Enichem e Wacker per non cedere queste produzioni, ma ipotizzare ad esempio una collaborazione tra i due gruppi. Ovviamente questo richiede una forte iniziativa di politica industriale non solo da parte dell'Enichem ma anche da parte del Governo, in primo luogo del Ministro Bodrato. A noi non bastano strumenti di difesa dell'occupazione come assistenza, che dovremmo anche gestirli come cassa integrazione e prepensionamenti, ma scelte di politica industriale. Questo è il discrimine per il quale andremo all'incontro con il Governo il giorno 22. Alla vigilia del mese più caldo dal punto di vista turistico, era già tempo di primi bilanci sulle presenze nel nostro territorio. Tracciato un quadro tra luci ed ombre con stresa che perdeva terreno ed altre località che invece potevano contare su numeri soddisfacenti. Già si parlava di flessione del congressuale. Nel nostro Tg però anche la proposta di alcuni musei del territorio mette ideali per una gita dominicale, musei tutt'ora aperti al pubblico. Le idee quindi restano valide. Avevamo presentato quello dello spezzacamino, la Casa Museo della Montagna di Viceno, a Crodo. Vediamo. Difficile sintetizzare perché sono dati estremamente disomogenei. Va detto che nel complesso, sui 35 comuni facenti parte del bacino turistico della nostra competenza, l'andamento è positivo. Abbiamo un più 2% negli arrivi e un più 10% nelle presenze. Se invece si analizzano separatamente località per località, allora si riscontrano alcune divergenze. Nella fattispecie estresa fa registrare una forte flessione sia negli arrivi che nelle presenze. Questo è l'unico dato, direi, negativo che si può notare dai dati rilevati. Dunque, un andamento negativo per estresa. Per quanto riguarda le altre località, siccome hai detto che nel complesso i dati sono sia pur di poco, anche abbastanza positivi, vuol dire che compensano questo andamento negativo di estresa? Sì, Verbania deve buona parte del consultivo positivo anche all'apporto del settore estalberghiero. I campeggi hanno fatto registrare un forte incremento rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno. Dobbiamo dire che l'unico elemento comune in tutte le località è una flessione della componente turistica italiana, che fa presupporre o comunque pensare ad una diminuzione dell'attività congressuale, nel periodo in cui questa attività è più florida, e una flessione contenuta nel settore della componente turistica straniera, però si risente maggiormente la mancanza della componente turistica inglese. L'inglese soprattutto, però, questo forse poteva essere per certi versi, anche se non quantificabile, prevedibile. Forse meno prevedibile era il decremento delle presenze italiane. Sì, questo sì, è vero. Infatti la crisi del Golfo ha ancora delle ripercussioni senza dubbio. Teniamo conto che i più grossi appuntamenti a livello europeo, l'ABI di Milano e l'ITB di Berlino si sono svolte in un periodo in cui la crisi è ancora decisamente acuta, quindi la maggior parte dei contratti si presume che abbiano subito di questo grosso condizionamento. È possibile già dire qualcosa sulle prospettive, lei ha detto, dei mesi di giugno, avrete i dati tra poco, e per i prossimi mesi proseguirà un andamento simile o c'è alle viste qualche cambiamento? L'unica speranza, non vorrei apparire cinico, però ormai bisogna prendere atto di una crisi jugoslava che comporterà chiaramente una drastica caduta delle presenze di questa nazione e nell'ipotesi si prospetta chiaramente che buona parte della cliente della presa jugoslava si riversi in Italia. Una delle attrattive di Santa Maria Maggiore è il Museo dello Spazzacamino. Noi ci troviamo appunto qui, in questo luogo, in questo immenso e bellissimo parco, con il sindaco e con Graziella Agnuva dell'azienda di promozione turistica. Allora, Claudio Cottini, sindaco, da quanto tempo che c'è questo museo? Raccontiamo un po' brevemente la storia. Il museo nasce nel 1981, da un'idea proposta dall'azienda di soggiorno, allora l'azienda autonoma di soggiorno e turismo, alla comunità montana e al comune di Santa Maria Maggiore. Viene restaurato questo rustico alle nostre spalle e in questa struttura si ospitano gli attrezzi del mestiere dello Spazzacamino. Si crea un ambiente in cui viveva lo Spazzacamino, quindi l'ambiente dell'Alpigiano, l'ambiente di dove viveva il Vigezzino e il Montanaro allora e intorno alla realizzazione di questo museo nasce tutta una serie di manifestazioni. Ogni anno il raduno nazionale dello Spazzacamino, o meglio internazionale, partecipano annualmente gruppi provenienti da tutta Italia, dall'Olanda, dalla Svizzera, dalla Germania, dall'Austria. Quindi oltre a questo sorge il monumento al Piccolo Rusca, un monumento donato da Don Cleto Barrera e che è ancora, si può vedere, a Malesco. Quindi annualmente in questo parco, che è il giardino di Villa Antonia, a Tigua, la sede del Comune di Santa Maria Maggiore, è visitabile il museo che racconta la storia di questo sfruttamento minoreile, del fenomeno dell'emigrazione dei piccoli Vigezzini di un tempo. Qual è l'accoglienza turistica per questo museo? Cioè viene gente, c'è interesse, fanno domanda? Lo chiediamo a Graziella Agnuva. Ma il museo suscita molto interesse da parte, nel periodo estivo, dei numerosissimi turisti che frequentano la valle. Nelle stagioni intermedie, primavera, autunno, da parte di gruppi che visitano da durata di un giorno solo la valle e soprattutto delle scolaresche. Soprattutto abbiamo notato un interesse molto grande, molto forte, nei bambini delle scuole elementari, perché appunto il fenomeno degli spazzacamini erano anche bambini di 7-8 anni e loro fanno molte domande su questo fenomeno, su come vivevano le loro giornate, su come facevano a pulire i camini. Cioè è una vita molto diversa da quella che vive il bambino di oggi. Ecco, ci sono degli orari dove si può visitare il museo? Ma in questo periodo è aperto il martedì, il mercoledì, il sabato e la domenica, dalle 15.30 alle 18.30. E poi è aperto anche il lunedì mattina dalle 10 alle 12. E questo anche nel mese di agosto, anzi probabilmente nel mese di agosto, sarà aperto tutti i giorni. E invece poi nel rimanente periodo dell'anno è aperto su prenotazione. Estate, tempo di gite, di escursioni negli innumerevoli angoli della nostra zona, dove ci sono da ammirare le tante bellezze naturali che propone il territorio ossolano. Qualche volta però è possibile fare un altro tipo di escursioni viaggiando a ritroso nel tempo, facendo un salto nella vita quotidiana degli ossolani di ieri. Intendiamoci, nemmeno in ossola è già stata inventata la macchina del tempo, ma anche qui esistono dei luoghi dove l'attenzione verso la storia passata, l'amore verso le proprie radici e le proprie tradizioni, ha fatto nascere alcune raccolte di oggetti della vita trascorsa, salvandoli dalla distruzione e dall'oblio. Una di queste raccolte la si può ammirare a Viceno, una delle frazioni di Crodo che si affaccia sulla valle Antigorio. Agli inizi degli anni 70 si parlava ancora del primo uomo sulla luna. A Viceno invece, su iniziativa della Proloqua in collaborazione con la Camera di Commercio di Novara, nasceva la Casa Museo della Montagna, dove sono raccolti gli oggetti di uso quotidiano e di arredamento della civiltà montanara e dei valligiani. Nei locali di questo antico edificio è stata ricostruita la tipica casa montanara, con tutti i mobili e gli oggetti che la caratterizzavano. Accanto alle superlettili e degli utensili, anche un grande telaio ancora funzionante, del tipo un tempo comunemente utilizzato un poco in tutta l'ossola. Nella Casa Museo della Montagna trovano spazio anche gli oggetti e gli attrezzi da lavoro che venivano utilizzati per le attività agro silvopastorali o dall'artigianato montanaro. Oggetti oggi divenuti misteriosi con la scomparsa di queste attività, soppiantate dalla civiltà dei consumi e dalla produzione in serie, fatta nelle grandi fabbriche robotizzate, ricche di tecnologie ma povere di umanità. Quell'umanità che si ritrova nei vecchi oggetti, che l'amore per le proprie radici ha portato tra le mura della Casa Museo di Viceno. Ed ora le immagini delle celebrazioni del treno dei bimbi nel luglio 1991. Aveva compiuto 25 anni, per l'occasione inaugurata una croce luminosa e ai nostri microfoni padre Vincenzo. 25 candeline per un treno tutto speciale, fermo tra il verde delle montagne di Osso di Croveo, ma che continua a portare lontano, anno dopo anno, generazioni di ragazzi. Parliamo del treno dei bimbi, nato nel 1966, utilizzando alcuni vecchi vagoni dismessi dalle ferrovie dello Stato e posti a disposizione di padre Michelangelo, dall'allora ministro dei trasporti, onorevole Oscar Luigi Scalfaro. Da allora tante cose sono mutate ed altre ne sono nate intorno a quei primi vagoni a cui, con il tempo, altri se ne sono aggiunti. Dai capannoni ricostruiti dopo la tremenda nevicata del 1978, fino alla chiesetta simpaticamente chiamata Cattedrale, costruita utilizzando la cappelletta di fortuna allestita nella galleria Domodossola Isel, in occasione della festa di Santa Barbara, patrona dei minatori, nel 1979. Domenica scorsa, a Osso di Croveo, sono saliti in tanti, bambini e genitori, giovani e anziani, personalità politiche della pubblica amministrazione e semplici cittadini, tutti uniti dalla gioia di stare insieme, in amicizia, per festeggiare 25 anni di vita di una istituzione ormai conosciuta anche a livello internazionale, mentre sabato sera, all'ingresso dell'area, è stata inaugurata una croce luminosa. Tra i tanti presenti, anche padre Vincenzo, una figura nota tra i francescani della cappuccina di Domodossola, da poco nominato padre provinciale dell'ordine fondato da San Francesco, è destinato a svolgere il suo nuovo incarico ad Alessandria. Ma io, quello che posso dire, è tutto un ricordo bello, il treno dei bimbi è sempre stato nel mio cuore, e credo che nonostante la nomina provinciale, che tra parentesi è una tegola grossa, caduta sulla testa, e nonostante questo il treno dei bimbi sarà sempre nel mio cuore. Non posso dire che c'è stato un giorno più bello, l'altro meno bello, eccetera. Il treno dei bimbi per me è sempre stato bellissimo, ecco, non facciamo confronti. L'avevamo chiamata il leone metropolitano, è Savana, leonessa famosissima che viveva a Villa Dossola. Tanta la curiosità suscitata dalla presenza dell'animale, grandi e piccini si avvicendavano davanti alla sua gabbia. La coppia che custodiva Savana raccontava, con lei si convive bene, basta dargli tanto affetto, è come un gatto. Già un gattone che mangiava 7 kg di carne al giorno. Ci troviamo qui a Villa Dossola, siamo con i coniugi Simionato. Non è, forse non tutti sanno dell'esistenza di un leone a Villa Dossola. Se ne era già occupata alcuni anni or sono la nostra emittente, se ne è occupati i giornali locali. Abbiamo un bellissimo leone, si chiama Savana. Siamo qui con i proprietari. Allora signora, quanto tempo ha questo leone? Dieci anni circa. Come si convive con un leone in casa? Ma tenendolo bene, dandogli affetto, si convive bene, basta dargli affetto. Avete avuto... Perché lui cerca affetto, come un gatto. Avete avuto dei problemi? Perché chiaramente non è un cane, quindi sapere che c'è un leone nei paraggi forse a qualcuno ha dato un po' di fastidio. Fastidio, non so, magari rabbia, gelosia, paura, e non so, ma la bestia è ben chiusa, non può uscire, non dà danni a nessuno, per poi è qua isolata, che non dà danni a nessuno. Vengono le scoloresche a vederla, le maestre addirittura portano qua i bambini, poi i bambini che vengono a vederla, gente che va in villeggiatura, che sanno che vengono a sapere che c'è la leonessa, vengono qua. Per esempio anche parenti di gente che viene qua a villeggiare, vengono qua a vedere la leonessa. Poi ci sono delle ragazzine anche di 13-14 anni, vengono qua, che sono innamorate di questa leonessa, che la vogliono vedere a tutti i costi. Noi eravamo venuto quando aveva sei mesi, adesso c'ha molto più tempo. Allora, lei mi ha detto che un po' il papà di questa leonessa la accudisce, gli dà da mangiare, ci gioca, abbiamo visto, si fa accarezzare. Come si trova? Ma bene, 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 perché è brava. È una bestia come tutte le altre, come i cani, come i gatti. Come è arrivata a Villa Dossola, si ricorda? L'ho portata io in macchina. Da dove? Da Cesenatico, no? Lì c'era un fotografo che doveva disfarsene. Sì, che le dava per fare fotografie ai bambini, che li tenevano in braccio. Allora il mio figlio ci ha andato dietro finché poi la sera è arrivato lì nella pensione con questo gattino. Era piccolino, credeva di giocarci sempre, invece è venuto a due quintali. E poi è rimasta qui, l'abbiamo sempre qui. Ecco, quanto mangia? Cinque, sei chili, sette, sei, cinque al giorno di carne. Non mangia niente d'altro, va lì fuori che carne, solo carne. Ma è una bestia conosce, affettuosa. Infatti al mattino devo sempre venire qui a fare le carezze perché le vuole come il cane, lo stesso. E invece c'è gente che dice il leone ti mangia, ti vede sporco di sangue, invece gli metto la mano in bocca e tutto come niente fosse. Sì, infatti abbiamo visto, molto affettuoso. Sì, è un animale affettuoso come gli altri, come qualsiasi altra bestia. Solo che ha la potenza, che lei non ha paura di niente, se si incavola non si può mica pretendere di farla scappare. Sta tornando all'antico splendore la chiesa parrocchiale di Cireggio dedicata all'Assunta. Sono iniziati infatti i lavori di restauro, sono iniziati da circa un mese e che riguardano la prima cappella laterale, quella dedicata alla Madonna del Rosario. È un'autentica esplosione di colori come possiamo ben vedere. A restaurare, a iniziare questa operazione di restauro sono due maestri, possiamo così definirli, di Caravaggio, il signor Enzo Corna e la signora Chen. Ma andiamo a scoprire più da vicino quali sono le operazioni che stanno facendo. Buonasera, la distrubbiamo? Ma il parroco ci ha dato il permesso per qualche minuto, ecco, per salire fin qui a distrubarla. Ecco, cos'è che state facendo, signor Enzo? Ecco, si giri pure di qua. L'intervento è quello di rimuovere tutte le ridipinture che sono state sovrammesse a queste decorazioni in stucco. Ci sono diverse ridipinture di tante epoche alternate oltretutto da strati di sporco, di polverume, di fumo delle candele che sale dal basso. Ecco, è un'operazione difficile perché qui vediamo, penso che si possa vedere bene anche con la telecamera, vediamo come sta avvenendo l'operazione. Una parte scurissima, quasi invisibile, probabilmente dal fondo della chiesa non si vede nulla, qui si riesce appena a intravedere e qui invece questa magnifica esplosione veramente di colori. Ma in questa parte abbiamo soprattutto un'alterazione di sostanze sovrammesse tipo vernici o sostanze colloidi che sono state messe per ravvivare in passato la fresco che poi nel tempo si è alterato e ha assorbito tutto la sporco e soprattutto ha assorbito anche quel nero del fumo delle candele che salendo logicamente si deposita e viene bevuto da questa sostanza che sia altra ed è destinata ad anerire. Mentre nella parte fuori quando si esce, quindi qui si tratta solo di rimuovere questa parte di sporco, si rimuove con dei solventi che poi vengono totalmente tolti quindi non resta mai niente sopra la fresco, viene riportato quello che è l'origine sia dalla sua natura. Mentre nella parte fuori abbiamo anche diverse interpretazioni di colore, delle imbiancature eccetera, che quella è la rimozione e è basata soprattutto sull'intervento di bisturi, si tratta di rimuovere... Praticamente oltre al camice bianco da chirurgo vedo che ha usato anche le attrezze dei chirurghi. Lo strumento più adatto in questo caso perché consente una cura particolare nel dettaglio. Ecco, oltre a Don Pietro, ecco la pregheria di Girassi, oltre a Don Pietro anche i parrocchiani vorrebbero adesso sapere e quando potranno rivedere pienamente splendente questa cappella. Beh, fare dalle previsioni è sempre abbastanza difficile perché questi lavori qui riservano sempre tante sorprese, non si sa mai sotto questi strati di ridipinture cosa si può trovare, a volte si scoprono cose inaspettate che prolungano i lavori, quindi si tratterà di qualche mese. Da oggi è in edicola l'ultima edizione, prima delle vacanze, dei giornali della stampa diocesana a Novarese che ritorneranno ad uscire il prossimo 23 agosto. Sul Popolo dell'Ossola si commenta l'incontro tra il Comitato Prosempione e la Direzione Compartimentale delle Ferrovie dello Stato, il quale ha garantito il rilancio della zona per quanto concerne l'asse ferroviario. Sull'informatore del Cusio si parla dei benemeriti cusiani, fra cui spicca il nome di Vitario Beltrami, già presidente della Giunta regionale piemontese. Sul verbano alcuni servizi speciali, la patronale di San Rocco che quest'anno presenterà un'inedita commedia di Luigi Fioretta, nella quale dopo qualche anno di assenza è previsto il ritorno della coppia Erneste Vitour. Ancora un servizio speciale di otto pagine dedicato alla rassegna di Madonna di Campagna, arti artigiane verbano. Infine l'elenco dei maturi degli istituti Cobianchi, Ferrini, Liceo Scientifico Santa Maria e Magistrale Maria Consolatrice. Tutti i giornali della stampa di Cesana sono completati da rubriche di attualità, Sport e Tempo Libero. La pagina dello spettacolo propone l'elenco completo dei programmi di Vicio Azzurra. Siamo al termine di questa puntata della nostra storia che torna come sempre il mercoledì alle 21, il venerdì alle 12 e sabato alle 18 oppure su www.tuttonotizie.info. Grazie dell'attenzione e arrivederci. Grazie a tutti.